Dopo le voci che vogliono Belen Rodriguez lontana da Mediaset, interviene Maurizio Costanzo Belen Rodriguez pronta a lasciare Mediaset. L'indiscrezione.Belen Rodriguez riempe costantemente le pagine dei giornali di gossip, almeno da quando ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2008 Da quel momento la sua carriera è decollata, e la showgirl argentina è sempre al centro dell'attenzione Ha da poco fatto parlare di sé per la rottura del suo fidanzamento con Andrea Iannone Dopo i gossip infondati dei ritorni di fiamma con l'ex marito, e padre di Santiago, Stefano De Martino, per Belen 34 anni probabilmente è tempo di bilanci La rivista settimanale Spy qualche giorno fa aveva fatto delle dichiarazioni molto forti su di lei Si legge, infatti, che sebbene lei sia molto contenta di prendere parte ai programmi di Maria De Filippi, in particolare come presentatrice di Tusico e Vales, è da tempo che cerca un'occasione più importante e rilevante per la sua carriera Nel settimanale si legge, inoltre, che Belen sia pronta a rischiare e magari anche a lasciare Mediaset Belen Rodriguez, pronta a lasciare Mediaset? Interviene Maurizio Costanzo.Dalle pagine di nuovo, tuttavia, Maurizio Costanzo, nella sua personale rubrica dedicata alla televisione, ha voluto esprimere la sua opinione Infatti, ha parlato proprio di Belen e delle voci che la vogliono pronta a lasciare Mediaset Il giornalista e conduttore ha scritto di essere sicuro che Belen non sparirà mai dalla televisione, anche se per ora non sono stati annunciati programmi per lei Inoltre, punto la showgirl argentina saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa È diventata un'artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza Che cosa accadrà, quindi nel futuro di Belen Rodriguez?